Un istituto per il tuo futuro, ecco il quinto razio flacco. Da 50 anni, stede del liceo classico con in più le nuove discipline di debate, web journalism e learning. Ammi le lingue e le culture, il liceo linguistico ti offre la possibilità di ottenere certificazioni internazionali di inglese, francese e spagnolo. I futuri professionisti delle scienze motorie e delle scienze biomediche troveranno la loro casa nel liceo scientifico sportivo della sede di Palagiano. Che con i suoi laboratori ospita anche gli indirizzi di amministrazione, finanza e marketing e relazioni internazionali per il marketing. Ma se sono le discipline tecnico-scientifiche da affascinarti, l'Istituto Tecnico fa al caso tuo, con gli indirizzi di informatica e telecomunicazioni. Comunicazioni Elettronica ed elettrotecnica Meccanica e meccatronica Il mercato del lavoro chiama, il flacco risponde con l'Istituto Professionale e i suoi indirizzi di manutenzione e assistenza tecnica e industria e artigianato per portare alta la bandiera del Made in Italy. Il flacco c'è Quinto Arazio Flacco, un istituto per il futuro che vuoi